Scusi, c'è uno che mi dà fastidio? Ah, sì. Ehi, giovanotto, sapete che vi ha dato infortunare le signorine? Stiglia! Ma come? Mi hai riconosciuto. Sono io, Kille. Ah, Kille, ma c'è il proprio frumo. Che bella! Eh, cosa le dici, eh? Giovanotto, la volete piantare o volete finire dentro? Ma stiamo a quante volte ve lo devo ripetere che questa signorina è la mia fidanzata. Insiste pure, insiste. Ma sì, lasci stare, è veramente il mio fidanzato. Come? E prima non lo sapevate? Non l'avevo riconosciuto. No, stiamo...